detto ciò ragazzi voi come state tutto bene intanto napoli arsenal attretti con van guff van guff sta cuffia che cazzo vuole da me stasera vabbè bene 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 e che va bene oggi ho già chiamato una capata un mucco a chi le chiamate sta capata raffae raffae ma come fai senti raffae raffae come fai senti fate i bravi ok si parte napoli arsena vada palla per robocca larga per fasconi mazzocchi prova a tenere palla mazzocchi la giriamo buongiorno rischia un poco ma la dà di lorenzo vada maratona si gira dico palla per lukaku si gira verso il difensore purtroppo guarda l'arsena con di marco proviamo a chiudere noi ci riusciamo poi racmani palla per mazzocchi vada anghissaco raschelia appoggia per mazzocchi che l'ha data anghissaco e prolunga per quara schella gran giocata quara fino in fondo quara l'alza per lukaku di testa all'incrocio dei pali dall'altro lato romero lukaku 1 a 0 ripartenza fulminante si parte fortissimo contro l'arsena attenzione anghissaco palla per quara schella 1-2 se ne va a zammanghissala la mette per lukaku lukaku pietta in un batter d'occhio rovello lukaku 2 a 0 bene così bene così partiti forti adesso concentrato in difesa palla dentro brutta questa in bucata raccamani va a chiudere la mette per maratona appoggia per l'obotca vada quara schella di tacco per anghissaco che cerca lukaku che allarga dall'altro lato peccato quara schella adesso la dà a mazzocchi che cerca zammanghissà perdiamo una brutta palla fabian prova a ripartire anghissà riparico e ritorna e ritorna palla poi l'obotca che può partire in transizione l'obotca l'appoggia mazzocchi che arriva palla per quara schella mazzocchi che la mette dietro per mazzocchi bruttissima mazzocchi riesce a girare per lukaku che va la maratona che cerca anghissà che prova a tirare la parata di non so chi è donnarumma credo si donnarumma attenzione palla dentro vale a o torniamone con l'obotca di lorenzo ah peccato grande anghissà la mette fuori male però mazzocchi torna su nemar mamma mia buongiorno calcio d'angolo va bene così piazzata sul palo lontano i goli si infatti il colpo di testa là stranamente è stato voluto proprio cioè io l'ho cercato quel palo con le freccette e stavolta mi è riuscito attenzione palla dentro ma eretta bravissimo alex che mette palla giù e rilancia lungo verso quara che prova a staccare per anghissà oggi a mazzocchi che vede subito lo scatto di quara schella che prende palla porta palla quara schella per il cross in mezzo arriva lukaku di testa due volte continuano a cercare il gol ma manca la precisione è vero che chi semina raccoglie porca troia ragazzi e qua se le divorato giusto per non perdere le vecchie abitudini lobotka a maradona la mette su giù per lukaku che prova a girare la cavara schella che va ad anghissà ancora per cavara schella dentro per romello va forzata questa giocata rilancia lungo attenzione lobotka la mette giù vada quara schella si gira quara schella che prova a tirare di sinistro non arriva a buon fine il tiro fallo laterale per noi sempre e comunque raffaele sempre e comunque anghissà vada quara fallo un po' curta purtroppo attenzione olivera lobotka attenzione lobo vanno dentro loro olivera maradona prova a rientrare anche lui costa curta attenzione diego di marco va fino in fondo c'è leao e poi olivera bravissimo anghissà la riesce già per cavara schella no kaku la gira per maradona male purtroppo riparte l'arsenal non riusciamo a recuperare qua tutta questa situazione leao attenzione leao lo aspetta di Lorenzo esce lobotka e arriva buongiorno che poi vada a maradona che appoggia lobotka che la ritaglie comaradona un po' lunga purtroppo ok no cerchiamo di non perdere le distanze ragazzi che questo gioco è un attimo attenzione eccolo lì meretta meno male eh infatti infatti mi stavo ponendo esattamente la domanda perché maradona mi sembra che stia giocando cioè che non stia giocando e poi l'attacca calcio d'angolo va dentro controlli manchissà grande anticipo perdiamo palla qui zammanchissà lobotka non riesce a recuperare e maradona olivera appoggia per caraschelia che appoggia a maradona che è la rita caraschelia che può andare nello spazio caraschelia la rita lukaku ha provato l'1-2 mi ha capito lì mi ha capito perché è andato sulla traittoria di Lorenzo di Lorenzo si gira di Lorenzo prova a cercare qualcuno trova maradona va dall'altro lato da lobotka che non riesce a girare l'obo qui se la va a riprendere l'obo bravissimo lobotka che sembra un po' lento ne sente coraschelia anchissà dentro ancora per coraschelia che si gira coraschelia in giro qui c'ha coraschelia all'angolino 3-0 3-0 3-0 ragazzi siamo stati cinici fino ad ora attenzione Olivera palla dentro mamma mia lobotka la palla passa anchissà l'appoggio a caraschelia prova a ritarrarla anchissà che riesce ad andare a prendere la ritacca a caraschelia che penetra no eh qui perdiamo palla eravamo stati già troppo fortunati con un paio di rimpalle vinti attenzione Rachmani lobotka prova a rientrare su Deao ah Meret il lancio lungo di Meret verso Lukaku che la gira a quara che appoggia ad anghissà che fa salire mazzocchi che ha provato a cercare quara anghissà va dentro a quara schelia che allunga per Lukaku la devi mettere dietro per quara attenzione quara schelia quara schelia è fermato qua voluto un po' troppo qui effettivamente Olivera lobotka provare a ritarlo Olivera brutte queste uscite attenzione Leao di Lorenzo a vuoto Leao Rachmani fallo forse sì porca troia ciao Raffaele grazie 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 per essere passato dovrò attenzione attenzione Neymar Neymar 3 a 1 su calcio di munizione ho provato a spostare Meretto l'ho fatto troppo tardi vabbè quara schelia ma che gol del cazzo ho preso peccato 3 a 0 va bene 3 a 1 si riparte attenzione prova ad attaccare sull'assinale palla dentro Leao prova a scendere Leao prova a chiudere non ci riesce adesso scende Lobotka Lobotka non riesce ad intervenire qua riparte l'arsenal attenzione Neymar Leao palla dentro Neymar chiude Olivera che poi allarga per Maradona va dentro Diego verso Lukaku niente da fare riparte ancora l'arsenal torna anche Maradona c'è Lobotka Lobo Anghissà attenzione Anghissà su Neymar Messi Anghissà esce Lobotka che poi vada Quaraschelia che appoggia per Anghissà Anghissà dentro per Quaraschelia che può andare nello spazio Quaraschelia l'alza per Lukaku che non riesce a staccare follia inimmaginabile del portiere che consegna la palla per la tripletta a Romelu Lukaku ragazzi follia del portiere totale dell'arsenal Donnarumma fa una papera colossale e consegna ripeto la tripletta a Lukaku buon per noi 4-1 bene così gol regalato dai football lo accettiamo volentieri questo petit cadou anche perché è un retropassaggio di testa quindi veramente inspiegabile inspiegabile quell'intervento fortunatamente ne abbiamo approfittato proviamo a mettere al sicuro il risultato e andiamo avanti raccomani attenzione salame si grandissimo Olivera si gira e rilancia Coraschelia va di testa la palla finisce a Lukaku che la butta dentro per Maradona la palla passa va Diego 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 dentro da Anghissa che segna anche lui Frank Zambo Anghissa 5 a 1 in contropiede bene così Coraschelia recupera palla Criscia Coraschelia va dentro da Lukaku si ferma Lukaku perde palla Romelu palla dentro provano ad attaccare ancora l'Arsenal attenzione vanno dentro da Salah Salah 5 a 2 tutta imbucata qui abbiamo preso c'è un po' di cambi là dentro Billy sicuramente fuori Romelu che è stanco metterò ragazzi metto il sciolito posso metto su Daenerys al posto di Romelu tolgo Coraschelia metto il sciolito di Simeone si metto anche Raspadori metto qui con il sciolo chiaramente deve diventare punta Maradona potrei anche lasciarlo che è on fire metto spina per Mazzocchi no Mazzocchi sta fortissimo quindi resta così 3 sostituzioni bene banco va più che bene va più che bene 4 sostituzioni scusate andiamo alle tattiche difensiva Billy Gilmore contropiede a Simeone e Neres andiamo così ragazzi andiamo così molto attenti Simeone palla per Gilmore larga per Di Lorenzo palla per Maradona ci tocca Neres si gira Neres primi di Neres frattere palla l'appoggia Maradona che l'alza per Neres David prova ad arrivare sulla palla eh palla nostra Neres vada Di Lorenzo la prova a ridere a Neres sfortunato qui Di Lorenzo quei rimpalli bravissimo Racamani poi buongiorno follia di buongiorno attenzione Gilmore deve rientrare buongiorno non deve uscire male anche perché manca Racamani dentro c'è Neymar Racamani prova a chiudergli le linee di passaggio c'è Di Lorenzo che vada meretto è uno rischio pazzesco ma Alex riescerà di lanciare poi Maradona il ciolito non riesce ad andare da Neres un po' di confusione adesso dobbiamo un attimo mettere ordine sono tutti in mezzo al campo poi Olivera sbaglia tutto perché faccio ste cose poi Olivera recupera ancora perfetto io l'ho regalata due volte nello stesso modo quindi o sono deficiente Maradona palla per Neres che prova il dribbling non è riuscito veramente per un nulla ah Gilmore per poco andiamo sempre in ritardo qui attenzione Cafu dentro c'è Olivera che riesce con la palla Gilmore esce lui palla dentro per Cafu che cross in mezzo calcio d'angolo attenzione ragazzi attenzione 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 calcio d'angolo attenzione Pempe fino in fondo Pempe la parata e poi Mazzocchi la mette fuori tiro dalla distanza palla fuori attenzione che stiamo soffrendo soffrendo meret rilancio lungo palla per il scioglito Simeone che prova a staccare la mette giù da buongiorno vada di Lorenzo Maradona 1-2 con Neres che si chiude adesso no perché viene anticipato David Neres attenzione Gilmore palla dentro buongiorno non riesce a arrivare poi ci arriva si buongiorno palla per il Raspadori dentro per il cielo Simeone che prova ad andarsene Simeone 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 che palo ha preso ma che palo è ragazzi attenzione Gilmore palla per Maradona Simeone prova ad andare da Raspadori niente da fare palo assurdo del cielo Simeone attenzione Raspadori va dentro da Simeone Simeone la prova ad alzare Donna Rum palo assurdo del cielo Simeone ragazzi Gilmore Olivera non riesce a metterla fuori la fine della palla finisce a Pempe Mazzocchi buongiorno provano ad andare lungo non ci riesce palla dentro per l'Arsenal buongiorno provano ad attaccare loro Neymar c'è Gilmore che prova a rientrare no a 5-3 vabbè la difesa era ben schierata ma è riuscito Pobucco a trovare lo spazio 5-3 abbiamo avuto un calo di concentrazione probabilmente Lorenzo palla per Maradona perde palla Diego Maradona attenzione qua però Gilmore prova ad andare da Maradona scende Maradona va dentro da Neres si ferma Neres si gira Neres va dal cielo Simeone che allarga per Diego Maradona che arriva al tiro in giro la parata di Donna Roma c'era Spadori che la alza la palla non arriva a nessuno Mazzocchi palla dentro per il ciolito che la vette per Neres la parata ancora di Donna Roma ci siamo mangiati dei gol senza senso palla dentro attenzione partita praticamente finita Gilmore palla per Olivera finisce qua 5-3 ragazzi bene 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 così bene così un poco di rilassamento verso fine partita forse è dovuto anche al ponteggio però va bene così ragazzi ci portiamo a casa la vittoria che comunque era l'obiettivo ovviamente come tutte quante e ci becchiamo 30 punti che sono ossigeno puro